Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di The Walking Dead Parte 6, credo, e facciamo riprendi partita Allora, allora, allora Dobbiamo dare questi bendaggi alla bambina del cazzo Andiamo a guardare la bambina del cazzo Ora Scusa Andiamo a vedere se possiamo fare qualcosa Andiamo a vedere, andiamo a vedere Andiamo a vedere Andiamo a vedere Andiamo a vedere Sì, per favore Che c'è? Ha avuto una faccia triste Lee? Sì? Ma cosa se i miei parenti vengono a casa e non sono lì? Sì, ci sottolineano, non preoccuparti Sì, ok Ma dovremmo guardare Ho il mio walkie talkie, in caso di provare così Mi dispiace proprio la ragazza Ecco, questa è una cosa dei videogiochi che... Cioè, ti fa entrare proprio nella... Ti fa entrare nella... Mentalità proprio dei personaggi E' davvero bello, devo dire la verità E' davvero bello, devo dire la verità Questa è la porta alla farmacia Sì, dovremmo potremmo trovare pills per Larry in là Ok, quindi andiamo Sì, abbiamo detto questa frase Sì, abbiamo detto questa frase Si, abbiamo detto Sì, abbiamo detto questo oh no, volevo saltare il dialogo pure la musichetta sotto è molto sfiziosa rende bene l'ambientazione e aiuta meglio ad entrare nella mentalità della situazione, dei personaggi vediamo un po' se si accende ancora eh, purtroppo, se la vi allora dobbiamo trovare delle chiavi dove potrebbero essere le chiavi? oh, mi piace che dovremmo trovare le chiavi che cazzo vuoi andare nella strada di drogte con me? ok ok, man Lee? e ... tu non sei troppo, no? io, ah, cosa hai chiesto di questo? quella città dicevi che si matisse qualcuno era perché è stata una delle cose che tu stai come? No, non era. Oh, era male? Era. Oh, dovresti apprezzare la sincerità. La sincerità, guarda, è una delle cose molto importanti. Non mi voglio prendere tutte le barette. Non possiamo lasciare niente di succedere, Ducky. Lo so, honey. Hey, Lee. Hai davvero dato questo uomo a giù? Sì. Abbiamo riusciti, sai? No, tu non devi dire a me. Mi sono pronti per il cuore. Allora, noi, Kat e io, apprecie il tuo supporto. Grazie. Grazie, Lee. Oh, d'accordo. C'è bene. È bene. È solo un shock. Ci siamo fortunati, che nessuno si trattavano in. Non c'era. C'è bene. C'è bene? C'è bene, credo. C'è una difficile. C'è solo una piccola, Ken. C'è bene, Lee? C'è bene, Lee? C'è stata un giorno per salvare a lei? C'è proprio. Non solo un piccolo chino può fare così. C'è voi bene? C'è bene, considerando. C'è bene, Ducky? Ci siamo tutti tratti un po' di più. Ma io non parla più. C'è l'intenzione? Si tratta, credo. Si tratta di un po' di più. Si tratta di un po' di più, quindi... devono aspettare per le cose di riuscire. D'accordo che la tua famiglia è da qui, in Mecon? C'è proprio. C'è l'intenzione? C'è l'intenzione? C'è l'intenzione? Beh, non Greg, дети riuscili. S C'è l'intenzione? C'è un po' di più. iga Beh… Non ti preoccupare E' vero Verissimo Ora non mi rompete le palle che devo provare la chiave Grazie Sì aspetta un attimo Sì ma aspetta Devo trovare le pillole Cioè le chiavi prima Ho la barretta energetica Non no i'm not your dad but if you need anything i'm your guy okay? okay same you're my guy? oh no you know we're gonna try to take care of each other yes deal so uh are you okay? what uh yeah yeah i'm fine i just uh fine no che discorso wow certo che hai proprio delle cacci delle parole stanno a porre io ho una barretta energetica come io la posso dare ti sei preso cura e mica si anima allora dobbiamo cercare queste chiavi piglia queste chiavi he heard or seen anything? nothing luckily wanna step outside have a look around no not suicidal no the gate out there is closed we can hang out in front of the store and be fine oh not right now all right let me know if you want to si dopo che andiamo a salvare quegli sciami andiamo qui easter egg hunt motel the it alti guy ok credo che... looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down ok well i will be the truth so you can tell me everything I'm going to die look at me look at me oh oh ma sta credo lo sta a prendere sempre a presto a noi allora vediamo se riusciamo a piare ste pillole ma va che è chiusa e come si fa a piare la key? ma allora noi l'abbiamo vista e se è chiaro ma non c'è un inventario non c'è la chiave ma no così lo offendi ciao allora non abbiamo trovato una chiave ma ci deve essere un modo per entrare nell'inventario ma ci deve essere un modo per entrare in Fort Lauderdale dov'è stanno queste chiavi? mi hai fatto finire tutto il barretto non la voglio offendere dicendo che il padre aveva un carattere di merda però non trovo le chiavi qua si scritto pure con valescenze ho beccato Vabbè, sti chiavi Ma come fai a non ricordarti la tua famiglia?